No! Hai avuto da me ciò che volevi! Non otterrai altro! No! L'ho perduta. Padre! Perduta... per tutti noi. Sono qui. Possiamo impedirlo. Se vieni con noi, se ci aiuti a risanare la terra... No! Ti copro io! No! 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 E okeh... Sei verito! No! Non sappiamo cosa farà. Che cos'altro può fare? Che cos'altro può fare? Che cos'altro può fare? Che cos'altro può fare? Ehi, solo perché l'abbiamo visto non significa che avverrà. La visione di te che cadevi. Ariman cerca di... Le visioni non provengono da Ariman. Ma non devono avverarsi per forza. Nessuno può predire il futuro. Rimani vicina! Evitiamo di colpire qualcosa. Questa è un po' di più. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proseguiamo. Grazie a tutti. 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 Le lastre si trovano dietro quegli ingranaggi lassù. Grazie a tutti. Andiamo da su. Andiamo da su. Grazie. Grazie a tutti.